Sì, sicuramente pareggio ci lascia un po' così perché comunque abbiamo fatto una buona partita sotto tanti aspetti e poi prendere un gol e non portare a casa i tre punti dà comunque fastidio, però siamo pronti per un'altra partita in casa con la Turris che è una squadra forte, dobbiamo essere pronti mentalmente, fisicamente, comunque l'entusiasmo c'è e ci alleniamo sempre al massimo tutta la settimana. Per essere pronti la domenica. Sì, ci alleniamo sempre a mille e anche il mister ci fa lavorare tanto e comunque queste cose poi ce le ritroviamo in campo la domenica perché aiuta comunque a allenarsi forte, sempre. È fondamentale portare a casa i tre punti anche come si è messa la classifica, è vero che siamo tutti lì, però tre punti sono sempre fondamentali. Sì, c'è rabbia, però dobbiamo essere sempre liberi mentalmente, con entusiasmo, certo rivedere i nostri errori, però poi andare oltre e ricominciare e riprovarci sempre.